Eccomi qua, avevo detto che non fevo e invece continuo a parlare. Vi siete domandati perché oggi c'è una crisi dei partiti? Come mai la gente non si interessa della politica? Come mai la gente stufa e cambia canale quando la vede Fabri, e gira il canale, quando la vede, come se chiamano quelli del fatto quotidiano? Travaglio, e gira, quando la vede da Milano, e gira, perché? Perché siamo stufi di sentire queste cose. I partiti perché sono vuoti? Perché sono vuoti? Perché, cari signori, la storia è stata fatta da uomini, non dal popolo, sono stati fatti da uomini che hanno diretto il popolo e che magari vengono dal popolo. Perché Trump ha detto una cosa, secondo il mio parere, molto interessante. E ora a definirla, che governa solo i politici? Deve essere il popolo, però il popolo funziona se c'è una rappresentante. Secondo il mio modesto parere, oggi mancano gli uomini. Chi è che ha fatto l'Europa, se non tre uomini? Adenauer, De Gasperi, Truman? No, Truman, Schumann. Tre uomini. Loro hanno fatto l'Europa, tre uomini. Oggi, se voi fate un panorama in Italia di uomini con la U maiuscola e con le palle, come intendo mi, io onestamente non ne vedo. Perché? Perché c'è la famosa saturazione di cui abbiamo parlato tempo fa. Non c'è il motivo per cui ci sia un uomo. Sì, Salvini, ma non hanno lo spessore che aveva un De Gasperi. Noi abbiamo bisogno di uomini. Abbiamo bisogno di uomini. Sindaci, sì, sindaci vasi. Anche Arco, Gemmelbetta, sì, Bonfiol. Arriva che è il Mosaner, un altro bravo Fiol. Sono persone che non hanno, per conto mio, una visione e una energia. energia, ci vuole energia. Perché ha vinto Trump? Ma domandevelo. Un che si è sposato, che l'è fallito, che le torna su. Perché la gente ha visto in Trump un uomo deciso, un uomo che ha voglia di fare, un uomo che ha energia. La gente ha bisogno di questo. Io credo che la gente oggi non vota, non va a votare perché non vede dei riferimenti. La gente ha bisogno di un riferimento, ha bisogno di dire, ma mi voto quel lì perché quel lì ha il disco e che pensa. Oggi siamo un po' fiaccotti. Allora tanti dicono, ma l'ottobre, quell'ottobre, per l'amore di Dio, l'ottobre. No, non è mica vero, Puteina. Non sottovalutate l'uomo perché l'ottobre, nonostante sia criticato, nonostante l'è uno che ha energia e in certe cose non ha poi delle brutte idee. Quindi non sottovalutiamo l'uomo, ma c'era un mio amico che diceva che in un paese di orbi, in un paese di ciechi, sta bene chi ganoccio sol. Chiaro? 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 Chiaro?